che abbiamo ascoltato, innanzitutto un grande grazie per la vostra freschezza, per la freschezza di questi bambini, per la loro vita, come sono naturali, come sono semplici, grazie per questi momenti di profonda meditazione. Dov'è il maestro Francesco? Se ne è andato il maestro Francesco? Il maestro Francesco dov'è? Se ne è scappato. Eccolo qua. No, perché dobbiamo ringraziarlo perché Francesco ha reso ragione di chiederlo Papo Natale. Perché però Papo Natale è San Nicola, che poi al nord non lo sanno chiamare e lo hanno chiamato Santa Claus. Ma è San Nicola che portava i doni ai bambini. Bambini, Papo Natale si chiama San Nicola. Una cosa bella. Grazie perché siete bravi, grazie perché veramente avete toccato il cordo del cuore, grazie perché... Vedete, è come un fuoco l'aria acceso su cui si sono purtroppo messe tante cose che impediscono il calore di emergere. Loro hanno un poco tolto tante cose per far emergere questo calore del cuore. Una sola considerazione. Non l'abbiamo me Gabriele. Lui vorrebbe far nascere tanti alberi a sesso. Tantissimi alberi. Io ho scritto una lettera alla comunità in cui ho chiesto, vengo dalla montagna, immaginate se a me non piacciono gli alberi. Ma come è meglio il presepio. È fatto di volte, è fatto di persone. Allora Gabriele, tu hai fatto nascere gli alberi a Piazza Mercato, a Via Garibaldi. Io voglio fare un grande presepio a Piazza Duomo. Sapete perché? Perché a Piazza Duomo ci sono gli occhi di questi bambini. Questi. Io vi prendo questo Natale. Sentitevi figli. Scopritevi figli. Perché se ci scopriamo figli, scopriamo quello che loro c'è in sé. Da loro non possiamo prendere nulla. Possiamo solo dare. Loro ci fanno capire che l'affetto sta nel dare. E si è felici quando gli abbiamo di affetto e di tutto quello che possiamo dare. Questa nascita di Gesù, un bambino, ci ricorda che siamo figli e riceviamo tutto. Che più che possedere, noi dobbiamo scoprire che abbiamo ricevuto doni. Ci è stata data la vita, ci è stato dato affetto, ci è stato dato tutto nella vita. Scopriamoci figli. Questo Natale facciamo il presepio in cui ci scopriamo tutti figli. Grazie. Grazie a tutti.